Si torna a parlare di erosione costiera, di mareggiate, del problema mareggiate qui nella città di Pineto. Il Comune, l'amministrazione comunale, ha richiesto interventi per un importo totale di 680 mila euro. La Regione Abruzzo però ha detto che i fondi possono arrivare al momento fino a 200 mila. Sì, è vero questa triste constatazione a fronte di quello che è accaduto con la mareggiata del 12-13 novembre, la cernità dei danni posta in essere dagli uffici competenti del Comune di Pineto, ammonta ad euro 680 mila e ne sono stati finanziati al momento circa 200. Quindi siamo a un terzo del costo, a meno di un terzo del costo, chiaramente con disagi e forti preoccupazioni da parte sia dell'amministrazione ma anche degli operatori riguardo la ripresa della stagione estiva per il prossimo anno, insomma, per la stagione 2020. Ecco, gli interventi da fare saranno soprattutto nella parte di zona Catucci, Villa Ardente, dove la mareggiata del 12-13 novembre ha fatto numerosi maggiori danni. Sì, noi abbiamo una zona critica a livello di erosione, una cosiddetta zona rossa, ha ragione da definire zona rossa, che è proprio quella della Pineta Catucci, del tratto di litorale compreso sostanzialmente tra la foce del Calvano e Madre Ester, un po' più piccolina, diciamo, perché il tratto dalla foce del Calvano all'idola d'Agino, per intenderci, è meno compromesso rispetto all'altro versante. L'altro versante, invece, è una situazione di assoluta drammaticità, perché il tratto di ciclabile che collegava appunto il Lido Madre Ester sino al Lido d'Agino è praticamente del tutto crollato e quindi occorre un'attività di ripristino importante che i fondi messi a disposizione in via d'emergenza della Regione non sono assolutamente sufficienti ad effettuare e a realizzare. Ci sono operatori che puntualmente mi aspettano all'ingresso del Comune ogni mattina, che vogliono avere delle risposte e noi non siamo al momento nella condizione di darle. Credo che ci sia stato un po' di superficialità da parte della Regione riguardo le linee di intervento immediate in via d'urgenza per il ripristino delle situazioni di velte ed ammalorate.